perché ho preparato questo piatto di pasta fredda perché fa caldo semplicemente perché fa caldo è un piatto veloce pratico e soprattutto si fa in due minuti nel tempo che tu cuoci la pasta e preparato gli ingredienti adatto per studenti per persone single per persone che magari lavorano e hanno solo un attimo per prepararsi il pranzo è un piatto che si può preparare anche prima che insomma non è assolutamente da abbiassimare e quindi buon appetito e buon caldo e buona estate Grazie a tutti